Taglio del nastro ufficiale per la nuova scuola di Fossa che già dal 7 gennaio ospita i bambini della primaria e della scuola dell'infanzia. La struttura è stata costruita da Caritas Italiana per un costo complessivo di 2 milioni e 390 mila euro. Fondamentale il contributo delle Caritas a Diocesani, della Calabria e della Toscana, così come significativo il contributo della Banca Popolare del Cassinate. La struttura costituirà un punto di riferimento per la ricostruzione di tutta la comunità, dice entusiasta ai nostri microfoni il sindaco Calvisi. La scuola ha avuto un costo importante, ha superato i 2 milioni d'euro, mi dicono gli esperti, io non sono un esperto che ha delle tecnologie d'avanguardia che raramente si trovano addirittura in Italia ma si devono andare all'estero e quindi Fossa ha una struttura che come dicevo prima non avremmo immaginato. Adesso è una scuola materna ed elementare, però già c'è una cooperativa che ci ha richiesta pure di aprire qua un asilo unito, noi saremmo contenti perché lo spazio c'è, questa si estende per 1200 meri quadri e poi c'è un terreno intorno per un totale di 6000 meri quadri, quindi come vedete è una struttura per Fossa una cosa inimmaginabile. Per l'inaugurazione a Fossa torna nel comprensorio aquilano Monsignor Vittorio Nozza, direttore di Caritas Italiana, protagonista di una delle cherelle più accese con il comune dell'Aquila che hanno caratterizzato il posto terremoto. 25 le strutture fino ad oggi realizzate nel cratere grazie alla raccolta indetta dalla CEI in tutte le parrocchie d'Italia. 20 milioni di euro per scuole, centri di comunità, strutture di edilizia sociale e abitativa. Nei prossimi mesi, fanno sapere da Caritas Italiana, verranno realizzate anche altre 18 strutture per quasi 14 milioni di euro.